Buongiorno a tutti gli amici dell'Ispari, giorno 2, siamo al Gran Visconti Palace stamattina scusate gli occhiali ma anche oggi mi sono diciamo svegliato in un orario abbastanza hello, abbastanza improbabile, è alle 7.15 e niente, ieri è stata una giornata molto molto intensa casting con le modelle, casting con le modelle che ha richiesto praticamente tre quarti della giornata è stata una cosa molto impegnativa anche se si può pensare che sia una cosa estremamente leggera facile è una cosa estremamente impegnativa perché la modella è ovviamente la persona che rappresenterà quello che noi facciamo su un palco e quindi abbiamo dovuto scegliere in base a molti criteri non solo se era carina che tipo di capelli aveva se era adatto o meno un paio le avevamo prese poi le abbiamo scartate perché camminavano male può sembrare strano ma capita anche questo non ci piaceva come sfilavano e quindi abbiamo deciso di eliminarle scusate sono in un albergo molto bello quindi non posso urlare cosa dire dopo il casting con le modelle abbiamo abbiamo cominciato per la preparazione di tutti gli accessori materiale che ci serve ci servirà oggi domani dopo domani che sono i prep dei giorni di preparazione quindi ero alle 8 di sera completamente cosparso di colla glitter capelli finti e chi più ne metta ci hanno dato tutti i beige tutti i pass e anche l'agenda con gli orari fondamentale in una organizzazione del genere rispettare gli orari e dobbiamo essere tutti a conoscenza di quello che succederà quando e chi farà che cosa tutti i gruppi hanno degli orari che vanno dalle 9 e 15 alle 9 e 30 alle 9 e 30 alle 10 alle 10 siamo estremamente serrati perché un evento così grande necessariamente ci sono persone che delegano ad altri professionisti e quindi tutti devono avere i tempi giusti e perfetti vi devo salutare proprio perché sono le otto in questo momento e abbiamo il transfer verso l'accademia real accademia real bellissima spero di riuscire a fare un piccolo video di presentazione perché noi di da dal sud